Non è possibile, non è possibile che noi al novantesimo regolarmente spegniamo il cervello noi dal novantesimo in poi basta la partita è finita quello che succede dal novantesimo in poi chi se ne incula non è possibile, ogni volta un cazzo di roba così non è possibile Dio canta ecco l'ho detta ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video non ho parole, non ho parole, non ho parole risultato giusto? Sì, risultato giusto, per carità, risultato giusto? Sì, risultato giusto ma però, cazzo, vai in vantaggio con un missile di Malinoski stupendo che Malinoski e la Juve sempre e poi, e poi è il novantesimo, è finita, è finita, è il novantesimo oh, ci hanno fatto gol cioè, ma porca puttana, ma sempre così io qua mi faccio radiare dei vicini di casa oggi cioè non è possibile, penso la voce, ho un infarto in corso, ho un'attacchicardia che non so neanche io come sto facendo a registrare un video tutte le volte così tutte le volte così e Coppa Italia e Supercop e Stecassi, non abbiamo mai giocato a Supercop quello che è tutti Champions League, sempre così che dire ormai sono diventato un meme sto che dire, che dire, che dico sempre che dire partita dai due volti primi 25-30 minuti solo loro poi è successo un po' di tutto è Scesni che secondo me andava quantomeno andava ammonito andava ammonito perché Musso per la stessa cosa è stato espulso questo almeno ammoniscilo poi non è che gli fa fallo si vede che tira indietro per provare ormai era tardi però almeno ammoniscilo vabbè fallo di mano di Delit che guardato su Twitter ragazzi è netto però sembra quasi che la prenda qua sotto da ascella questo vi fa capire che io sono sportivo ok sono sportivo solo per questo mi dovreste mettere mille mi piace e iscrivervi visto che in questo canale siete più juventini catalantini iscrivete mettete mi piace commentate sembra che la prenda qua Delit poi il solito discorso bisogna vederlo 600 volte nessuno dell'Atalanta ha protestato quindi non lo so io sinceramente non me ne ero neanche accorto quindi sono onesto dopo l'ho visto su Twitter mi sembra la prenda qua però poi anche noi c'è un fallo di mano che non si capisce bene quindi vabbè facciamo che abbiamo pareggiato sta cosa dei falli di mano poi secondo tempo noi veniamo fuori veniamo fuori giochiamo meglio giochiamo meglio e la sblocchiamo con questo missile di Malinowski che però io imparerò a guardare dentro diritto la tercama prima o poi mi sta venendo un infarto però poi al novantesimo noi spento il cervellino e non si fa più gol non si fa gol si subisce non si difende si subisce sportiello che deve essere titolare tutta la vita tutta la vita io musso non lo voglio più vedere e lo dico proprio col cuore perché se stasera c'era musso noi non facevamo assolutamente ma proprio minimamente lontanamente la partita che abbiamo fatto qui avrò qualche atalantino che mi infama ma sportiello stasera ci ha salvato il culo e non solo all'Atalanta perché comunque anche Chesney ha fatto due begli interventi secondo me cioè sì sportiello l'ha salvato solo all'Atalanta però va bene ragazzi io non so cosa dirvi ogni volta che giochiamo con la Juve mi parte un dieci anni di vita ogni volta che giochiamo con la Juve ci sono dei fatti arbitrali che possono essere sia da una parte che dall'altra e anche qui vi faccio vedere che sono abbastanza sportivo non lo so sono contento perché prima della partita avrei firmato per il pari avrei firmato ma sull'1-0 non pensavo più di perdere di pareggiarla di perderla di prendere un gol nonostante so come sono i miei dal novantesimo in poi perché ormai non mi stupisce più io a un mio amico Juventino gli ho scritto avete già vinto è finita è finita la partita finisce quando finisce purtroppo non è che ho portato sfiga ma è così altresì molti amici di Juventino appena è entrato Malinoski hanno detto adesso ci segna Malinoski un saluto a Davis e a Paolo niente ragazzi è andata è andata un buon pareggio comunque sono contento perché senza zappata con Muriel che è il fantasma di se stesso ragazzi Muriel non è più lui speriamo che si ripigli anche lui sono contento gol bellissimo di Malinoski bella partita Vlaovic annullato annullato senza palomino dai sono contento vi invito a scrivere la campanina a mettere mi piace mi raccomando cerchiamo sempre di essere tutti rispettosi e non ci mandiamo colpi infamati cercate di essere come me che nonostante sono incassato come una biscia e ho il fiatone dai comunque va bene va bene uno a uno dai era meglio vincere però piuttosto che niente è meglio piuttosto piuttosto che perderla va bene così vi abbraccio forte vi do una buona notte mi raccomando tanti mi piace qua sotto tanti commenti tante iscrizioni 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 qualsiasi squadra voi ti fate ok vi aspetto col cuore ciao ragazzi buonanotte